Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Vittorio Sgarbi interviene sulla fine del rapporto tra Giorgia Meloni e Andrea Gianbruno. Ha tutte le caratteristiche del melodramma televisivo, e non solo, la fine della relazione tra la premier e il compagno padre di sua figlia Ginevra. Lo scandalo provocato dai fuorionda del giornalista pubblicati da striscia alla notizia non si è ancora spento, così come il clamore destato dall'annuncio pubblico del presidente del Consiglio. Sul caso sarebbe intervenuto pure l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi il quale avrebbe chiamato Giorgia Meloni per informarla che lui di quei fuorionda non sapeva nulla altrimenti l'avrebbe avvisata. Andrea Gianbruno oltre alla compagna sembra aver perso pure il posto di lavoro e così in un attimo si è ritrovato in una sorta di crisi esistenziale. Ma ora a dire la sua sulla vicenda e Vittorio Sgarbi, il vulcanico critico d'arte e sottosegretario alla cultura ha espresso un punto di vista molto originale. In un lungo articolo sul giornale Vittorio Sgarbi commenta, Meloni conosceva il temperamento di Gianbruno, prendere le distanze da lui è crudele. Sarebbe stato impensabile, qualche anno fa, un congedo come quello di Giorgia Meloni dal suo compagno, scoperto in flagrante fuori onda da striscia la notizia, dopo aver condiviso sentimenti e divertimenti, amandosi e giocando con caratteri e gusti inevitabilmente compatibili, anche se con ruoli impari. Sgarbi prosegue, come credere che lei non ne conoscesse il temperamento e, per scoprirlo, abbia dovuto aspettarne un'esibizione televisiva rubata. Ma che fino a quel momento Gianbruno non si fosse rivelato? Evidentemente il costume è cambiato, e anche i rapporti tradizionali subiscono mutamenti. Con l'uomo, più debole, che viene licenziato platealmente e senza preavviso. Una storia si interrompe per colpi di scena e la sfera privata diventa spazio pubblico, ci riguarda anche se non lo vogliamo. Non ci interessano solo gli atti della Presidente del Consiglio, ma anche i sentimenti e le insofferenze che si manifestano attraverso messaggi sui social e agenzie. Su Andrea Gianbruno dice, Gianbruno non è stato elegante, ma giocava, e la prima a conoscerlo, e a condividerne il temperamento allegro e guascone, era certamente la sua compagna. Era difficile difenderlo, ma certamente non ha tradito un patto d'amore, tant'è che nel messaggio che la Premier ha consegnato ai social gli è stata confermata l'amicizia. Ha involontariamente rivelato la sua natura, nota a lei sola. E conclude, Prendere le distanze da lui, tradito dalla televisione in cui gioca, è crudele, ma si può capire, non per la donna, complice, ma per la Presidente del Consiglio, che non se lo può permettere. I rapporti cambiano, e la sfera del privato non è più esclusiva. Non sono più Giorgia e Andrea. E lui sembra non averlo capito. Non si può più giocare in due. E il sessismo è un nuovo reato. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.